Durante il sesto ecoforum sui rifiuti ospitato nella cittadella regionale a Catanzaro, Legambiente ha presentato il dossier Comuni Ricicloni Calabria, che conferma la crescita della raccolta differenziata in regione con realtà territoriali che stanno progressivamente raggiungendo percentuali molto alte, come Soveria Simeri, primo tra i comuni rifiuti free con l'88,5%, seguito da Tiriolo e Frascineto. Intanto è una grande soddisfazione perché è un riconoscimento che viene fuori da un lavoro, da un impegno quotidiano, costante, che svolgiamo a 360 gradi, con i nostri cittadini che prima di tutto sposano questa filosofia, con l'azienda che ci segue in questo sistema di raccolta, con tutti coloro che convergono anche in termini di divulgazione culturale, con le scuole, con le istituzioni che fanno tutti la loro parte per raggiungere un risultato che non è soltanto un fraggiarsi di un primato, ma è soprattutto dare un contributo concreto a che il nostro territorio sia effettivamente all'avanguardia dal punto di vista ambientale, è un nostro patrimonio, è una nostra ricchezza, quindi riuscire ad essere primi in questo è duplice come soddisfazione e come risultato. In Calabria sono in totale 36 comuni rifiuti free, quelli cioè che registrano un'alta percentuale di raccolta differenziata e una bassa produzione pro capite di secco residuo e tra questi diversi raggiungono punti di eccellenza di oltre l'80% di raccolta differenziata. Ormai dimostriamo da oltre 30 anni che non c'è più una distinzione tra piccolo, medio, grande e comune. Abbiamo risultati in tutte le tipologie di comuni italiani, da quello piccolino, da quello costiero, da quello turistico, per cui si può fare, ci deve essere la volontà politica. Pur migliorando i propri dati, la Calabria è ancora nella parte finale della classifica nazionale con una percentuale di raccolta differenziata del 54,6% contro una media nazionale che ormai tocca il 65,2% ad incidere in maniera molto negativa le performance tra le città capoluogo di Reggio Calabria che raggiunge appena il 18,1%, peggiorando ulteriormente e di Crotone con il 22%, seppure in lieve miglioramento. I capoluoghi più virtuosi sono Vibo Valenzi e Cadanzaro mentre la provincia con i peggiori risultati è quella crotonese. Registriamo ancora una volta una fortissima disomogeneità territoriale. Abbiamo delle performance estremamente basse come la città di Reggio Calabria, come la città di Crotone, come la provincia di Crotone. che appunto ancora una volta ci portano nella parte bassa della classifica. Siamo nella classifica nazionale ancora una volta terzultimi dopo la Sicilia e dopo il Lazio. Allo stesso tempo ci sono province nelle quali invece si collocano prevalentemente i comuni rifiuti free che riescono a raggiungere percentuali di raccolta differenziata molto vicino al 65%. Dobbiamo accelerare tutti i meccanismi della transizione ecologica, dobbiamo passare da quello che è un modello di economia lineare alle famose 3R dell'economia circolare, quindi ridurre, riusare e riciclare. costruire e realizzare su tutto il territorio regionale gli impianti della filiera del riciclo. È assolutamente essenziale per avere finalmente una Calabria che sia pulita, che sia moderna, che sia avanzata, proiettata nel futuro.